Il tema di oggi è i compressori assiali, dopo aver visto i compressori centrifugi, assieme a questa seconda categoria di macchine operatrici, di frutti contenitivi, dove, come ricorderete dal corso di Martin, ci sono due illustrazioni, la foto del rotore di un compressore assiali multistadio che sta per essere calata nella sua cassa, una sezione mediana sempre di un compressore assiale multistadio. Ricordate che le schiere delle pare rotoriche sono montate su un tamburo cilindrico, generatrice leggermente con, mentre le schiere statoriche sono montate direttamente sulla cassa della macchina. Questo fa sì che da un punto di vista costruttivo sia comodo che le pare rotore statoriche siano sempre in numero pari, in maniera da avere una metà sulla semicassa inferiore e una metà poi sulla semicassa superiore, mentre invece per evitare il possibile innesco di vibrazione, contiene che invece il numero di pare rotore che non sia anche sovari in genere si prende dispari. Lo scambio di energia, l'abbiamo già visto al corso di macchine, avviene praticamente solo per azioni alari, manca il termine centrifugo, non possiamo sfruttare le lavorazioni di energia potenziale d'aiuto al campo centrifugo, il che già solo questo giustifica, come già abbiamo introdotto nelle lezioni scorse, il fatto che i compressori assiali sono capaci di cedere, lo studio di un compressore assiale è capaci di cedere meno lavoro di correttatura al flusso che lo attraversa. E quindi i rapporti di compressione sono in genere più bassi, quelli raggiungibili a un compressore assiale. Abbiamo fatto anche un conticino nelle lezioni scorse, considerando il coefficiente di carico, o il coefficiente di lavoro, adesso punto da quelli che sono gli agrami di un percento. Normalmente il numero che si dà come rapporto di compressione raggiungibile da uno stato di un compressore assiale è circa 1,4, anche se non mancano esempi di compressori assali molto più caricati che riescono a raggiungere i rapporti di compressione più elevati, circa 2, però diciamo delle realizzazioni normali, tra virgolette, 1,4, 1,5 come massimo rapporto di compressione antenibile, che fa sì che a meno casi particolari di funding e così via, in genere abbiamo a che fare con macchine multistadio. macchine multistadio, la pratica per noi è una comodità, è quella di fare riferimento a degli stati cosiddetti ripetuti, dove, abbiamo anche il ferro con una macchina operatrice, quindi la parte erotorica procede sempre alla parte esterotica, lo stadio ripetuto, ossia abbiamo C1, la velocità assoluta del flusso all'ingresso dello stadio, congruente con la velocità C3 che viene scaricata dallo stadio, il che significa che se la U si mantiene costante, in caso delle macchine assiari, noi normalmente assumiamo che le particelle mantengono, gli elementi di fluido mantengono sempre la stessa distanza all'asse della macchina, quindi la velocità U in ingresso alla parte erotorica, la velocità U in uscita dalla parte erotorica, se assumiamo che questo è pari anche alla velocità U in ingresso allo stadio successivo a quello che stiamo analizzando, se la C3 è congruente alla C1, abbiamo che il triangolo delle velocità in ingresso allo stadio J è esattamente congruente al triangolo delle velocità in ingresso allo stadio J più 1. Quindi in questo senso è stato ripetuto perché in realtà meriamo a progettare stadi dove i triangoli delle velocità nelle tre posizioni caratteristiche, ingresso rotore, anulus tra rotore e statore e uscita statore, si ripetano oltre a di loro identici. Normalmente, questo si abbina a un'altra condizione che è la componente meridiana della velocità in costante, quindi l'altezza dei nostri triangoli delle velocità, quello costruito alla stazione 1, quello costruito alla stazione 2 e quello costruito alla stazione 3 anche si libera in variacca. Quindi noi normalmente opereremo, faremo l'analisi che faremo, la faremo proprio basandoci sempre su questa assunzione, c1 congruente a c3, c1m uguale c2m e quindi, distante da prima, anche uguale a c3. Quindi una velocità meridiana che si mantiene costante. Se la c1 è congruente alla c3, il lavoro di palettatura dalla termodinamica è fare la differenza tra l'intattiva di ristagno in uscita dallo stadio, meno quella in ingresso rotore 3 e uscita statore, quindi ingresso stadio, uscita stadio, ossia H3 più C3 quadro mezzi, meno H1 più C1 quadro mezzi, meno H1 più C1 quadro mezzi, meno H1 più C1 quadro mezzi, se lo stadio è ripetuto, il lavoro di palettatura è proprio pari ad H3 meno H1, quindi la differenza tra l'intattiva e talvolta chiamate statiche. In realtà l'intattiva è riferita. Ed è pari, secondo la formulazione di Euler, facciamo l'assunzione che macchina assiale la velocità periferica U sia costante, quindi ci muoviamo mantenendo inalterata la distanza dal centro della macchina, dall'asse della macchina, U per la componente periferica C2U meno la componente periferica C2U, o secondo la formulazione indiretta C2 alla seconda meno C1 alla seconda fratto Fondamentalmente quindi la velocità deve sempre diminuire nei nostri condotti sia nei condotti strotorici che nei condotti strotorici devono essere sempre deceleranti. Quindi la velocità deve sempre diminuire nei nostri condotti, sia nei condotti strotorici W1 conviene che sia maggiore di W2 dopodiché la parte strotorica la realizziamo proprio per convertire energia cinetica in pressione e quindi per rallentare la C2 e riportarla al valore della C1. Questo determina quella che è la criticità nel progetto dei compressori assiali. I condotti sono sempre dei condotti deceleranti, quindi per evitare che si possano avere dei distacchi della vena fluida che portano poi, come vedremo, allo stallo delle palettature dovremo stare attenti a contenere quella che è la decelerazione che il flusso ha quando si muove attraverso i condotti, sia i condotti rotorici sia i condotti strotorici e questo alla fine determinerà una limitazione per quanto riguarda la capacità di carico di ogni stadio, perché in realtà dovremo stare attenti a non eccedere troppo ad esempio nel rallentare la velocità relativa quando abbiamo il passaggio attraverso i condotti rotorici. La W2 non potrà essere molto molto più piccola della W2 perché più rallentiamo il flusso, più quindi creiamo un gradiente di pressione che opera contro il modo del fluido, la direzione in cui si muove il flusso e quindi possiamo favorire il formarsi di un distacco della vena soprattutto sul torso della vena, come abbiamo visto trattando il potigliere di me. Ora, durante queste condizioni, normalmente nei compressori assiali l'angolo alfa con uno è diverso a 90 gradi, condizioni che invece eravamo soli di porre nel caso dei compressori centrifughi. Nei compressori l'angolo alfa con uno è diverso da 90 gradi. Per il momento continuiamo a individuare gli angoli misurati rispetto alla direzione periferica. Secondo la formulazione, in diretta da volerlo, consideriamo questo il triangolo delle velocità in ingresso alla nostra parte rotorica. Il condotto rotorico deve essere un condotto decelerante, la W2 deve essere inferiore rispetto alla W1. Se vogliamo mantenere costante la componente meridiana della velocità, dobbiamo ragionare quindi a parità di altezza del triangolo delle velocità. Non c'è niente da fare. La palettatura dovrà essere conformata in maniera da deflettere il flusso, farlo ruotare, avvicinando a quella che è la direzione assiale. Quindi questo fa sì, ragionando a parità di altezza dei triangoli delle velocità, che io possa ottenere allo scarico della parte rotorica di una C con 2 più elevata anche della C con 2. Ovviamente se ragioniamo a parità di 1, questa quantità è varia questa quantità, ma in realtà questa è tutta la componente periferica della C con 2, questa è la C con 2, questa è la C con 2, questa è la C con 1, quindi questa è proprio la variazione delta C con 2 pari a C con 2 meno C con 1. Allo stesso tempo questa è tutta la W con 2, questa è la C con 2, questa è la C con 2. Questa è la relazione della componente periferica della velocità relative, proprio potremmo dire proprio per costruzione delta W con U pari a delta C con U calcolato come differenza tra la componente periferica C con U e la componente periferica C con U. della componente periferica C con U. Quindi se immaginiamo la sezione intraparare, sia 1 una traccia del bordo uscita dal rotore, sia 2 una traccia del rotore uscita dal rotore, se io questo triangolo U, 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 C con 1, immaginiamo per il momento di trascurare quelle che sono le incidenze o le deviazioni che il flusso posso dire. Devo disegnare una valentatura statorica rotolica che riceva il flusso secondo la direzione definita dalla W1 e me lo deve ruotare in maniera da renderla un po' piastiale, in maniera da avere allo scarico la direzione della W1, da definire allo scarico la direzione della W1. Quindi qui esattivo ottenendo un W1 che vado a comporre con l'O1, C con 2 maggiore di C. La valentatura avanza in questa direzione, questa in maniera grossolana è il disegno di quella che potrebbe essere la linea media del mio condotto rotolico o la linea media della mia pali. Nei compressori assiali abbiamo che le pali avanzano sempre di ventre, tendono a deflettere il flusso rendendolo un po' più assiale rispetto alla condizione di pali. Per quanto riguarda le palettature statoriche, se lo stadio è ripetuto dobbiamo prendere la C con 2, in realtà noi vogliamo che allo scarico dello statore vogliamo riavere di nuovo la C con 1, quindi dobbiamo fare il gioco inverso, dobbiamo prendere la C con 2 e ruotarla nella parte statorica fino ad ottenere la C con 1. facciamo finta che il bordo 2 che definisce l'uscita della parte rotolica sia anche quello che mi definisce l'ingresso della parte statorica, in realtà i due botti sono sempre distanziati ovviamente, la palettatura statorica dovrà ricevere un flusso secondo la direzione definita da C con 2 e ruotarlo prendendolo di nuovo un po' più assiale in maniera da ripetere in uscita dalla rettatura statorica con una velocità assoluta congruente con la C con 1 di potenza. Vediamo bene quello che avviene all'interno dei condotti per quanto riguarda la storia delle intantie, della pressione eccetera. se trattiamo stati ripetuti una forma di rappresentazione estremamente comoda che è cosiddetta proprio rappresentazione corale, riferita all'attraversamento della parte rotolica, sempre ricordando che questa C con 1 poi andrà a coincidere con la C con 3, in realtà qui abbiamo un quadro d'insieme complessivo per quanto riguarda il funzionamento dell'attraversamento. in questa forma possiamo visualizzare immediatamente di quanto deve essere deflesso il flusso relativo attraverso il rotore, quindi riceviamo una F1 e la facciamo ruotare fino a poi diventare una F2, fino alla direzione definita la F2. Ma possiamo anche visualizzare quella che sarà poi la deflessione che il flusso dovrà subire attraversando lo statore, perché lo statore riceve una C con 2 e deve far ruotare la velocità assoluta fino alla direzione di nuovo della C con 1. Abbiamo già detto che le variazioni delle componenti periferiche delle velocità sono le stesse, queste sono cruciali per definire il lavoro di un errore, quindi la deflessione abbinata con la U, come al solito ci dà il lavoro di palettatura scambiato secondo me. Possiamo fare una piccola manipolazione, lavoro di palettatura quindi velocità periferica per la differenza tra le componenti periferiche della velocità assoluta. Se facciamo riferimento al triangolo delle velocità, la C con 1 U possiamo immediatamente esprimerla in funzione dell'angolo alfa con 1. C con M, altezza del triangolo della velocità, per la cotangente dell'angolo alfa con 1. La C con 2 U possiamo anche facilmente ricordarcela in funzione invece dell'angolo beta 2. C con 2 U pari ad U, velocità periferica, meno la W2 U, ossia di nuovo C con M per la cotangente dell'angolo beta 2. Mettiamo insieme queste espressioni, quindi otteniamo che il lavoro di palettatura... ... 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 definiamo che una macchina a schiavo è comodo definire. Quindi la caratteristica adimensionale che ci esprime il lavoro adimensionalizzato in funzione del producente di flusso, se questi angoli alfa col 1 e beta 2 che sono gli angoli con cui il flusso entra nello stadio, quindi saranno frutto della geometria dello statore che è a monte dello stadio che stiamo studiando e dell'angolo beta 2 con cui il flusso viene scaricato dal rotore del nostro stadio, se ad esempio ipotizziamo che non ci siano incidenze, non ci siano deviazioni, quindi caso di flusso congruente alla pala, questi angoli sarebbero fissati dalla geometria stessa dello stadio, quindi questa sarebbe una costante. In generale, come abbiamo già trovato, la caratteristica dello stadio, nel senso caratteristica ideale, il lavoro di palettatura in funzione del coefficiente di flusso sarebbe una caratteristica lineare u meno il coefficiente di flusso phi per una certa costante gamma. Quindi simile in realtà a quella che abbiamo già determinato in andamento per le macchine radiante, una funzione lineare. Perché abbiamo detto alfa con 1 in genere diverso da 90 gradi? Secondo voi qual è che potrebbe essere un motivo? Allora, in realtà, se ci ragioniamo, vediamo se l'immagine di prima è passata a questa linea. Il compressore comprime, quindi la densità del flusso aumenta a mano che la macchina viene attraversata, se la componente meridiana e la velocità si mantiene più o meno costante, abbiamo un andamento della sezione meridiana a superficie, a sezione eretta decrescente, appunto un andamento di questo genere. Quindi, il flusso entra da qui, è comodo, abbastanza comodo, avere una blocca di presa di questo genere. Se immaginiamo che non ci sia nulla che metta in prerotazione il flusso, quindi, la velocità quando arriva all'ingresso al primo stadio è diretta secondo la direzione assiale, quindi, secondo quella che è la classica condizione, alfa con 1 uguale a 90 gradi. Il lavoro scambiato diventa dalla U, diciamo di di disegnare un triangolo delle velocità, alfa con 1 uguale a 90 gradi, l'ingresso al primo stadio avremo qualcosa del genere. Se invece ammetto che alfa con 1 sia a 90 gradi, secondo il modo in cui l'ho disegnato prima, sto passando da questa situazione a questa, la U è sempre la stessa, la C con 1 mi diventa una C con 1 un po' più grande, la W con 1 mi diventa una W con 1 un po' più piccola. Ora, l'angolo alfa con 1, in questo caso, è un angolo positivo, un angolo acuto, per come stiamo, per le convenzioni che stiamo assumendo. Quindi nei calcoli del lavoro di qualità dura fa sì che questa C con 1 U sarà positiva e quindi effettivamente va a decurtarmi il lavoro scambiabile. Questo termine è positivo e ha un segno di lavoro. Quindi mi fa diminuire quella che è la capacità di scambiare il lavoro da parte di uno stadio. Qual è il vantaggio però che riesco a ottenere? facendo diminuire la W con 1. Poi abbiamo detto, quando abbiamo parlato dei compressori centrifugi, abbiamo introdotto quelle che sono le problematiche del genere dei compressori. La problematica, se abbiamo a che fare con macchine idrauliche, il nostro problema è la cavitazione. Se abbiamo a che fare con macchine termiche, il nostro problema è la compromibilità e il fatto che si possono raggiungere le condizioni sonico-supersonico. Il che a volte lo si desidera, si progettano anche i compressori transonico-supersonico, ma in genere quelli che trattiamo noi sono dei compressori subsonici. Il punto più pericoloso è l'ingresso alla schiera, alla valettatura rotomica, è l'ingresso della valettatura rotomica. Dove dobbiamo considerare le velocità relative e calcolare il numero di Mach come velocità relativa all'ingresso alla schiera perché poi la mia schiera comincerà a lavorare da compressore e mi fa salire le pressioni e temperature e quindi in realtà questa poluno cresce e io mi allontano in genere da quelle che sono le condizioni di sonicità. Se io lavoro con compressori che hanno delle U, velocità periferiche molto elevate e che magari smaltiscono tanta portata e quindi vado a forzare anche sull'altezza del triangolo della velocità sulla città. Ottengo delle W che potrebbero essere troppo alte. Quindi in questo modo uno dei vantaggi che andiamo a ottenere è proprio quello di allontanarci da delle condizioni di sonicità, arrottando questi schiamolati. Quindi questo forse è il motivo principale per cui andiamo a utilizzare degli angoli alfa con 1 che sono diversi da 90 gradi. Ora, per le macchine astiali il grado di reazione è una grandezza molto importante esplicitiamo il grado di reazione per i nostri stati ripetuti, abbastanza semplice in questo caso. Il lavoro di reazione è pari alla differenza tra il lavoro di palettatura e il lavoro di azione. quindi ci ricordiamo che il lavoro di azione in questo caso è C2 alla seconda, almeno C9 alla seconda, tanto 2, ossia la quantità di energia che io sto cedendo al fluido ricevisse come guadagno di energia cinetica. Il lavoro di palettatura abbiamo esplicitato secondo le relazioni di letta di Olero abbiamo il grado di reazione cinematico, può essere scritto in questo modo il rapporto tra le differenze tra dei quadrati delle velocità in assolute a cavallo del rotore e poi il denominatore della quantità di relazione di Olero. Ora, banalmente C1 quadro è componente meridiana più componente periferica al quadrato C2 quadro è componente meridiana che si mantiene inalterata perché stanno ipotizzando i lavoratori costali normali dove l'altezza del triangolo delle velocità non cambia la componente meridiana ingresso e uscita resta la stessa C con M più C2 uguale alla seconda. Quindi C2 alla seconda meno C1 alla seconda non è altro che la componente periferica della C2 elevata al quadrato meno la componente periferica della C1 elevata al quadrato che in scienze liceali riscriviamo come C2U meno C1U che moltiplica C2U più C1U. Quindi in realtà questo termine va a semplificarsi con quello che è la variazione della componente periferica delle velocità che mi compare in una spessione diretta di Olero. da cui il grado di reazione cinematico resta espresso come 1 meno la media tra le componenti periferiche delle velocità assolute quanto la velocità periferiche delle velocità di riferimento per calcolare il coefficiente di portanza e il coefficiente di resistenza di una schiera, la cosiddetta velocità all'infinito, ottenuta in realtà come media tra, ad esempio, la velocità w1 in ingresso al rotore e la velocità w2 in uscita al rotore per quanto riguarda la velocità all'infinito w1. Lo stesso abbiamo introdotto una c-infinito vettore risultante tra la media argendica tra il vettore c1 e il vettore c1. Ora, questi due vettori, per esempio, facciamo riferimento alla c, la velocità assoluta, c1 e c2 hanno la stessa componente mediana, quindi in realtà il mio vettore c-infinito, velocità di riferimento, quando lo scompongo secondo la componente assiale e la componente periferica, continuo a avere stessa componente mediana di c1 e c2, la componente periferica è la media c1 u più c2 u, fatto 2. Quindi, c-infinito ha una componente che come al solito definiamo mediana esattamente uguale alla c-m, altezza del triangolo delle velocità, e una componente periferica che è proprio la c1 u più la c2 u, fatto 2, come in realtà abbiamo già visto trattando le schiere. È normale considerare proprio l'invarianza della componente mediana, in questo caso assiale, delle velocità. quindi in realtà il grado di reazione cinematico possiamo descriverlo come 1 meno la componente periferica del vettore velocità c-infinito fratto da velocità periferica u, dando un'espressione estremamente uguale. Grazie. 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 Correvo un attimo, scusate perché... Facciamo una linea oltre. W1C11 vale 1 W2C12 vale 1 potete facilmente verificare che le velocità all'infinito con la U compongono di nuovo un triangolo delle velocità che visto che R è 1 meno C infinito U su con 1 A C infinito U risulta pari proprio ad 1 meno meno C infinito U per la velocità periferica 1 ma d'altro canto se la C infinito che è doppio U infinito con la U forma un triangolo delle velocità abbiamo che la componente periferica doppio U infinito U è proprio pari ad U meno C infinito U quindi il mio grado di reazione cinematico è esponibile anche per la velocità periferica il doppio U infinito U è proprio pari anche al grado di U avvertendo paralmente possiamo dire che il doppio U è pari proprio al grado di reazione cinematico per la velocità periferica in sostanza mettendo insieme le cose questo è il coefficiente di lavoro moltiplicato per la velocità periferica U in quanto abbiamo detto che il coefficiente di lavoro ha dimenzionalizzato è proprio pari ad U per delta C1 la variazione della componente periferica è proprio riferita alle velocità assolute è proprio la stessa della variazione della componente per la velocità periferica riferita a quelle relative riferite a quelle relative quindi delta C1 pari a SI coefficiente di lavoro per pari a delta W1 la componente periferica della velocità doppio U infinito è esattamente r per 1 la componente periferica della velocità C infinito è 1 che non è per 1 per definizione di coefficiente di flusso l'altezza del triangolo della velocità possiamo esprimerlo con il coefficiente di flusso per 1 possiamo vedere che questi 3 parametri coefficiente di lavoro coefficiente di flusso e in grado di reazione cinematica determinano completamente la forma del triangolo della velocità infatti ad esempio sempre secondo la notazione che stiamo utilizzando fino adesso quello è l'angolo alfa con 1 formato dalla velocità assoluta c con 1 con la velocità del treno ora la tangente dell'angolo alfa con 1 è pari all'altezza facciamo riferimento a questo triangolo delle velocità O H a questo triangolo O H A è pari a O H A O H è proprio la componente mediana coefficiente di flusso per velocità periferica U H possiamo esprimerlo come 1 meno L per U da C infinito alfa con 1 meno alfa con 1 psi per U fratto 2 l'angolo ossia coefficiente di flusso fratto 1 meno R meno si mezzo l'angolo alfa con 1 è definito dal coefficiente di flusso dal grado di reazione cinematico e dal coefficiente di valore allo stesso modo allo stesso modo alfa 2 troveremo che tangente di alfa 2 è coefficiente di flusso fratto 1 meno R più si mezzi tangente di beta 2 è uguale al coefficiente di flusso r più psi mesi tangente di beta 2 è uguale al coefficiente di flusso questo fratto R meno questi difensi, quindi gli angoli f1, f2, beta1, beta2 e quindi la forma dei nostri angoli delle velocità sono completamente definiti se andiamo a segnare questi tre parametri. Ora, tornando al nostro campo di reazione, se R uguale a 0,5, questo triangolo costruito con le velocità all'infinito è un triangolo misoscere, la w2 diventa il modulo pari alla c1, diventa la simmetrica della c1, la w1 è simmetrica rispetto alla c2, le palettature della schiera, se trascuriamo le palettature della schiera, le palettature della schiera saranno quelle palettature simmetriciche, la sigla di reazione a 0,5, ripeto, trascuriamo a quel momento se possono esserci in silenzio delle lezioni. Casi particolari, se facciamo tra l'altro riferimento anche al grado di reazione scenarico espresso come rapporto tra salti antarquici, ci ricordiamo che stiamo trattando uno stadio ripetuto, quindi come abbiamo detto all'inizio, la differenza tra le entarpie di stagno ingresso e uscita stadio coincidono con la differenza delle entarpie statiche, quindi al denominatore questa volta nel calco del grado di reazione cinematico possiamo mettere il salto entartico tra virgolette statiche che abbiamo attraverso lo stadio, somma tra salto entartico nello statore e salto entartico nel rotore. Ora, se il grado di reazione scenarico è nullo, è il caso della doppio v infinito u pari a 0, la reazione di entarpia nel rotore è pari a 0, se facciamo riferimento a una trasformazione etnotropica, la variazione di pressione è circa pari a 0. Nel grado di reazione cinematico 0,5 abbiamo che la variazione di entarpia nel rotore sarà circa pari a quella che abbiamo a cavallo dello statore, i salti di pressione all'incirca sono uguali da di loro, r uguale 1, la variazione di entarpia nello statore questa volta dovrà essere pari a 0, ossia non dovremmo avere variazione di pressione nella parte statorica, almeno nel caso ideale. Vi faccio notare una cosa, per quello che abbiamo detto fino ad adesso, anzi per quello che abbiamo visto prima, ci siamo rigapati che l'angente di a fa1 A1 deve essere pari a F1-R-6 mezzi, giusto? Noi abbiamo detto in genere che A1 è diverso da 90 gradi. Se A1 dobbiamo pari a 90 gradi, caso appunto di ingresso assiale al nostro stadio, assenza di pre-rotazione, 1-R-6 mezzi deve tendere a 0, ossia il grado di reazione cinematico deve essere pari a 1- il coefficiente di lavoro trattato 1. Una condizione in realtà che già abbiamo trovato quando abbiamo parlato della forma della pala per le macchine centrifughe, ma anche quando in generale abbiamo parlato del legame tra forma della pala e il grado di reazione cinematico, se vogliamo avere una condizione d'ingresso assiale alla macchina, il grado di reazione cinematico e il coefficiente di lavoro dovranno essere legati tramite questa relazione. Potremmo scegliere in maniera casuale, in ambe due. Se consideriamo tangente di alfa 2, che siamo ricavati prima, il rapporto tra il coefficiente di flusso, e 1-R-6 mezzi. Le relazioni di prima, qui avevo scritto male, questo c'erano meno, ovviamente, partiamo sempre da 1-R e poi ci aggiungiamo la quota di 6 mezzi. Quindi la tangente di alfa 2, lo stimiamo come il rapporto tra il coefficiente di flusso 1-R e C-Y mezzi. Se vogliamo avere, invece, uno scavico assiale, questo implica che dovrà essere 1-R più C-Y mezzi uguale a 0, e quindi R uguale a 1-R più C-Y mezzi uguale a 1-R dimensionale fratto 2, quindi questo ci porterebbe ad avere un grado di reazione cinematico addirittura maggiore di 1. Cioè, il grado di reazione cinematico maggiore di 1 significa che il salto entalpico elaborato nella parte notorica dovrebbe essere superiore a quello elaborato nell'intero stadio. Qui ci sono delle linee che fanno riferimento proprio, con rose intende il grado di reazione cinematico in questa figura. Avremo questa situazione, comprimiamo, comprimiamo, comprimiamo nella parte rotolica, dopodiché, invece di continuare a guadagnare pressione nella parte statorica, dobbiamo recuperare addirittura un pochino di energia cinetica in realtà. La nostra parte statorica è ora a lavorare al contrario. Per avere questa condizione, il grado di reazione cinematico pari ad 1 più C-Y mezzi e quindi avere un'alfa 2 pari a 90 gradi. Siamo interessati ad avere uno scarico assiale. Viceversa, se vogliamo avere un ingresso assiale, quindi nessuna preparazione del flusso, come invece vi ho detto che normalmente si fa, quindi al pal 1 uguale a 90 gradi, dobbiamo soddisfare questa condizione per quanto riguarda le gravi reazioni cinetiche. Ora, normalmente in genere tutti i confessori assiali, lo stadio di una macchina operatrice parte con rotore e statore, questa è la sequenza dello stadio. In tutti i compressori assiali, prima del flotore del primo stadio, si trova una palettatura fissa che serve in realtà proprio a preruotare il flusso. Questa palettatura fissa poi avrà anche il vantaggio, quindi a preruotare il flusso, quindi avere proprio quegli angoli al favore 1 diversi da 90 gradi, di cui abbiamo parlato prima. Questa palettatura fissa poi ha anche il vantaggio che io posso cercare, calettandola, di adeguare gli angoli di flusso a quelle che sono delle variazioni di portata che possono caratterizzare il funzionamento della macchina quando siamo in condizioni di regolazione. IGV, ricordate? Avete sentito questo cronimo? Ossia palettature, come vedremo alla fine dell'argomento che stiamo trattando, ci servono proprio in qualche modo a compensare variazioni di portata a cui il compressore può andare incontro se vogliamo regolarlo nel suo funzionamento. La cosa strana è che queste palettature, se torniamo allo schizzo che abbiamo fatto prima, dove prendiamo la C1 e la dobbiamo ruotare, se vogliamo mantenere inalterata la componente normale, la componente meridiana della velocità, in realtà, nel momento in cui la ruotiamo, noi stiamo facendo aumentare il valore della C1 in modulo, quindi queste palettature, in realtà, sono delle palettature che dovranno accelerare il flusso. Normalmente, poi, stranamente, in un compressore assiale, la prima schiera di pale che troviamo, appunto queste palettature fisse che hanno il compito di pre-ruotare, scusatemi, il flusso in ingresso, sono in genere delle palettature, in realtà, acceleranti. Grazie. 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 Grazie.